Siamo ad Apice. Apice è in provincia di Benevento, un paese che era vivo, vitale, popolosissimo. Si vede da questa foto, vedete quanta gente viveva in questo paese. È un paese pieno di attività commerciali, ricco, florido, che venne distrutto una prima volta dal terremoto del 1963, ebbe già l'ordine di sgombero, ma gli abitanti attaccati alle loro case non se ne vollero andare. Molti rimasero, e rimasero fino al 1980, al terremoto successivo che diede il colpo finale a questo bellissimo paese. Tutti se ne andarono tranne uno, tranne il barbiere, Tommaso Conza, che rimase qui a lavorare nella sua bottega ancora per anni, e gli abitanti che intanto avevano costruito Apice nuovo venivano comunque fedeli e attaccati al loro barbiere a farsi barbe e capelli da Tommaso Conza, che aveva la bottega un po' più avanti, alla fine di questa strada. Grazie a tutti. Oggi Apice Vecchio è diventato una sorta di museo all'aperto, c'è un percorso di Apice che si può visitare, ci sono anche dei ristoranti ottimi nell'interno, però è solo una piccola parte del paese fruibile perché delle grandi cancellate impediscono l'accesso a quello che è la gran parte del paese. Noi comunque oggi abbiamo cercato di farvi vedere molti di questi scorci. Ripeto, non si dovrebbe andare, non si potrebbe andare, molte case sono pericolanti, però il fascino è tale che noi abbiamo per un attimo, ci siamo presi la libertà e abbiamo girato molte immagini per far vedere com'era. A presto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.